La Chiesa di Cristo, intesa come l'insieme dei salvati, la società degli eletti che si traduce in varie comunità visibili e distinte, rimane l'ultima frontiera, l'ultimo baluardo di civiltà valoriale e custode di verità i principi che per millenni hanno attraversato la storia. La società come per secoli l'abbiamo conosciuta è minacciata sotto tutti i fronti e le forze del male sembrano trionfare con una irruenza incontrastata, ma come scritto nel Salmo II il Signore vede dal cielo i tumulti, la ribellione dei potenti, dei ribelli e se ne fa beffe e parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Dio ha costituito il suo unto, il suo Cristo, il proprio figliuolo quale re e giudice assoluto e sovrano, il quale giudicherà presto le nazioni tutte e le reggerà con scettro di ferro. Chi appartiene a lui godrà in perpetuo nel suo regno la beatitudine perfetta con tutti i santi. A Gesù Cristo, re e re e signore e salvatore nostro, sia la gloria, l'onore e l'adorazione nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti.